Batto io! Oh! Io ho giocato in serie C. Io ho un conto banco posta. Pure io? No! Con la nuova carta banco posta anche per gli acquisti online. Vabbè, batti tu. No, no, adesso batti tu. No, ricorre tu o batti tu? Facile incontrarsi in un conto banco posta. Apri lo anche tu.